ok volevo provare a parlare di questa cosa non l'avevamo ancora fatto nello specifico sicuramente in altri video avevamo accennato un po questa cosa qua però un video dedicato non c'era ancora e ne approfitto ora perché ho notato che da quando fedez purtroppo ha scoperto di avere un tumore ed è stato operato ogni giorno da qualche parte su facebook leggo che qualcuno dichiara la stessa cosa famoso o no e quindi parliamone ammettilo quando hai letto la notizia anche tu hai pensato che potresti avere un tumore l'ho pensato pure io ma quanto tempo è durato questo pensiero quanto fastidio ci ha dato cosa abbiamo fatto dopo siamo andati a farci tutti i controlli o ce ne siamo fregati e il giorno dopo non era cambiato niente in questo video vorrei parlare appunto della nostra ipocondria siamo ipocondriaci cosa è l'ipocondria quanto lo siamo l'ipocondria non è altro che la preoccupazione determinata dal nostro stato di salute l'attenzione che abbiamo verso il nostro corpo e che determina l'eventuale preoccupazione per il nostro stato di salute in poche parole le persone ipocondriache orientano l'attenzione molto spesso sul proprio corpo e cercano di capire se nel proprio corpo funziona tutto bene ed è a tutti gli effetti un disturbo d'ansia infatti l'ipocondria nel settore non si chiama più ipocondria ma disturbo d'ansia da malattia che può essere più o meno con sintomi somatici cioè le persone ipocondriache ovvero preoccupate per il proprio stato di salute possono anche avvertire sintomi somatici ma in realtà non hanno niente quindi ci siamo capiti in questo video non voglio parlare delle persone che hanno avuto o hanno malattie terminali ma voglio parlare delle persone che credono e pensano spesso di poter avere malattie terminali ok sigla cominciamo dall'inizio no stavolta non ci penso proprio però cominciamo da metà anche perché magari alcune cose te le ricordi già però ricordiamocelo non ricordi cos'è l'ansia l'ansia non altro che una tensione emotiva spiacevole che ci mette in guardia da eventuali minacce che potrebbero procurarci danno giusto te lo ricordi perfetto e te lo ricordi pure dove possono essere percepite queste minacce naturalmente fuori da noi ad esempio se vedi un cane che ringhia per strada attivi l'interruttore dell'ansia e te ne vai quindi la minaccia esterna il cane potrebbe ferirti ma certe volte la tensione è determinata da percezioni che arrivano da dentro di noi quindi dal nostro corpo e da come il nostro corpo funziona e in questo caso appunto l'ipocondria è determinata dalla preoccupazione che qualche cosa dentro di noi non può funzionare e che potrebbe procurarci danni serissimi se non ucciderci e quindi in qualche modo cominciamo a pensare a come poter risolvere questa cosa qui perché tu lo ricordi che ogni tensione emotiva in qualche modo determina un comportamento che ha lo scopo di ridurre questa tensione sempre ogni volta che avvertiamo una tensione emotiva di qualsiasi tipo che può essere la rabbia l'invidia la giusta tutto quello di passato il cervello ogni volta che avvertiamo la tensione immediatamente concepiamo un piano comportamentale per ridurre questa tensione e adesso devi stare attento perché la differenza sostanziale dal panico è questa mentre quando abbiamo un attacco di panico pensiamo di non avere abbastanza tempo per intervenire quindi la tensione determinata dal panico quindi un livello estremamente intenso d'ansia ci va a percepire come la situazione estremamente allarmante e quindi dobbiamo reagire immediatamente non abbiamo tempo perché se non reagiamo immediatamente moriamo subito nel caso dell'ipocondria la cosa è molto più leggera la tensione è molto più sostenibile però il pensiero può diventare martellante perché pensiamo tutto il giorno esso è un tumore questo è questo formico lì o in realtà è un tumore della pelle e sto sussuendo troppo e se il cuore non funziona è benissimo una cosa costante appunto che potremmo definire rimuginio ogni volta che la nostra mente ci dice tutto il tempo sss allora dovresti fare allora dovresti dire allora dovresti pensare questo è il rimuginio e l'ipocondria è questa una tensione emotiva spiacevole fatta di ansia che ci mette in guardia è qualcosa che può andare storta e quindi cominciamo a pensare di dover fare qualche cosa per rassicurarci quindi per avere la sicurezza di non avere niente per questo le persone ipocondriache magari fanno molto spesso degli esami oppure chiedono continuamente rassicurazioni in giro dai parenti dai partner degli amici e si rassicurano anche quando il semplice medico di famiglia gli dice tranquillo non è niente vedi una casa ma quanto dura questa rassicurazione molto poco perché magari il giorno dopo avvertono il piede addormentato e pensano e se c'è una trombosi e devono andarsi a fare un'altra attacca può essere mai e quindi e quindi dobbiamo smettere di essere eccessivamente rassicurati o incoraggiati a fare ulteriori controlli perché queste due cose qui diventano di fatto fattori di mantenimento del disturbo è normale preoccuparsi per il proprio stato di salute ognuno di noi più o meno si preoccupa per il proprio stato di salute ipotizziamo che da questo lato non ce ne preoccupiamo affatto e da questo lato ce ne preoccupiamo troppo tutti noi più o meno siamo un po nel mezzo magari non preoccuparsene affatto è ugualmente problematico esattamente come preoccuparsene troppo tutti noi siamo nel mezzo e ognuno di noi sa che prima o poi morirà così funziona la cosa senza trascurare comunque eventuali segnali la prevenzione è giusta ma non diventa non deve diventare ulteriore motivo di disagio perché l'eccessiva preoccupazione è portatrice di disagio perché a un certo punto le persone non ci sopportano più e ci dicono basta basta e rischiamo pure l'isolamento comunque la nostra qualità della vita a parte tutto diventa davvero compromessa comunque il problema è che certe volte le soluzioni che tentiamo in realtà non sono la soluzione ma rappresentano la cronicizzazione del nostro problema e quindi a costo di apparire eccessivamente strozzi gli altri dovrebbero dirci guarda adesso c'è rotto le scatole non lo so non fa niente comunque come si diventa così ipocondriaci io magari non lo sono perché i miei genitori non sono mai stati particolarmente rassicuranti da questo punto di vista addirittura certe volte mia madre pensava di curare qualsiasi cosa con un bicchiere di acqua e zucchero e una vi vinci e per questo comunque non sono stato educato a preoccuparmi eccessivamente per come sto questa cosa è stata positiva fortunatamente non ho mai avuto niente però non sono mai non ho imparato a preoccuparmi perché come abbiamo detto in altri video l'ansia molto spesso si impara oltre a fattori genetici e biologici predisponenti come possono essere i nostri tratti di personalità ad esempio quello determinato dall'ansia di tratto tutto il resto lo impariamo quindi magari è un'educazione particolarmente premurosa dal punto di vista della salute o molto preoccupata dalla prevenzione tutte queste cose qui sicuramente incoraggiano alcuni apprendimenti che potrebbero facilitare l'emergere appunto di condotte ipocondriache e questa è una e poi poi ci sono anche i cosiddetti però fattori precipitanti per esperienza diretta o indiretta magari una persona a me particolarmente cara muore per ora un tumore improvviso e allora io gli penso a Mizza se è successo a lui può succedere pure a me ma sono vent'anni io che sono speciale che sono immortale no quindi queste esperienze possono favorire questo tipo di pensiero e questo tipo di comportamento e questo tipo di emotività ma anche le esperienze in diretta e lontana ad esempio come facciamo poco fare riferimento a Fedez io sono sicuro che nell'ultima settimana ci sono stati molte molte più tacche per persone che pensano di avere un tumore è normale ci sta durerà poco a un certo punto il fenomeno ricalerà e si ritornerà alla normalità comunque perché tutti noi siamo influenzati da quello che ci succede attorno o quello che succede direttamente a noi o quello che è successo proprio a una persona a noi particolarmente vicina questa cosa è qui comunque secondo me non c'è tanto altro da dire se non che anche appunto questo tipo di disturbo si può cronicizzare in disturbi di personalità specifici però qui ci infogniamo l'importante è che abbiamo capito queste quattro cose ci siamo raccontati ora e eventuali domanda nei commenti ciao mamma mia mi stanno però un po' bruciando gli occhi e se mi esplodono grazie a tutti grazie a tutti